Giusto tributo alle donne che prestano servizio nei vari corpi delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine in provincia di Bolzano. In occasione del mese dedicato, la donna, l'assessore Bizzo, con le competenze per le pari opportunità, ha ribadito l'indiscutibile contributo delle donne al benessere della società nella quale viviamo. Le donne nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia non sono più una novità, ma continuano a rappresentare un valore aggiunto. È da poco più di dieci anni che le donne sono entrate anche in quel settore così tipicamente maschile da sempre come le Forze Armate e proprio in questo settore hanno dimostrato che con le loro capacità, la professionalità e l'impegno raggiungono e hanno raggiunto gli stessi obiettivi, gli stessi gradi, gli stessi compiti di responsabilità degli uomini, sia all'interno delle Forze Armate dove comandano e dove dalle loro decisioni dipende la vita dei colleghi, sia per quanto riguarda e soprattutto anche per quanto riguarda le occasioni di soccorso nelle quali sono quotidianamente impegnata e varie esponenti all'interno delle Forze Armate e anche delle Forze di Polizia. Numerose le testimonianze di coloro che si trasferiscono lontano da casa affrontano sfide difficilissime pur di coronare il sogno di una vita. La determinazione non manca. La mia esperienza in Afghanistan, quella di sei mesi, è stata come conduttore, quindi ho guidato quasi tutto il tempo, in più oltre ad avere la patente del VTLM normale ho la patente del VTLM ambulanza che si differenzia leggermente dall'altro mezzo. Qualche momento un po' critico c'è stato però per fortuna abbiamo risposto bene quindi è andato tutto bene. Comandare un uomo è la stessa cosa come se un uomo comandasse una donna, la donna può anche comandare l'uomo, quindi comunque vieni rispettata lo stesso, indifferentemente dal grado che ricopri, quindi vieni rispettata lo stesso anche se sei donna. Non solo missioni all'estero ma un forte impegno anche qui in Alto Adige. Ne sono un esempio le donne del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Io mi trovo benissimo, siamo una bella squadra e alla fine da noi non c'è differenza se uomo o donno, facciamo tutti lo stesso lavoro. La Polizia di Stato fu tra i primi corpi ad arruolare donne, i loro compiti spaziano a 360 gradi. Io mi trovo bene, devo dire che ci vogliono tutti quanti bene ad iniziare sicuramente dai nostri colleghi e poi anche i nostri clienti tra virgolette. Siamo assolutamente apprezzate, anzi tante volte è un sollievo trovare una donna, trovo dietro lo sportello. Poi ogni tanto sono anche fuori in macchina e quindi è sempre piacevole. Ti guardano sempre con quest'occhio come per dire, ah però anche una ragazza in macchina, poi soprattutto se sei alla guida secondo me hanno anche un po' di timore, però insomma no, direi che è assolutamente positivo. Poi è sempre quello che ho voluto fare nella vita quindi va benissimo così. Essere donna all'interno della Croce Rossa significa portare concreto aiuto alle persone più bisognose, non solo vittime di incidenti. Lavoriamo nel socio assistenziale, aiutiamo nella distribuzione di viveri, abbigliamento, contributo per medicinali, affitti, materiale scolastico. Nel 2011, come ho detto, abbiamo aiutato 3.440 nuclei familiari misti tra italiani, tedeschi e esteri. Stanno aumentando sempre di più, quest'anno mi sa che raggiungeremo quasi i 5.000 assistiti di sicuro perché ogni settimana ne arrivano tantissimi. Solo a Meirano, il mese scorso abbiamo aiutato oltre 80 persone, soltanto i nuclei familiari che arrivano. Essere responsabile di un mortaio durante una missione in Afghanistan non è certo una passeggiata. Ne sa qualche cosa Raffaella Viscovo. Io sono attualmente inquadrata al 5.000 reggimento alpini, un reggimento operativo della Brigata Iulia. Sono in carico morteista, che è un'arma usata per supporto delle truppe. E sono capo arma al congegno di puntamento. Ho scoperto che alcune qualità ce l'ho e quindi nel 2005 mi sono arruolata e poi come incarico mi è stato dato l'incarico di mortaista e sono arrivata poi a Vipitano dove ho fatto tante esperienze sia in Italia che all'estero. Io ho fatto tre missioni di pace in Afghanistan. Sono esperienze comunque significative che ti segnano anche perché comunque ti rapporti con una realtà completamente diversa in cui noi viviamo. Soprattutto ecco parlando anche a livello femminile la donna è ancora un po' di problemi ad emanciparsi diciamo e quindi esperienze che mi hanno formato lavorativamente e anche come persona che mi hanno cambiato e sono state esperienze tutte importanti nella mia vita. Essere donna e comandare uomini non rappresenta più un problema. I vertici delle fiamme gialle sono una conferma. Io personalmente mi trovo molto bene nel mio lavoro con i miei colleghi sia di sesso maschile che di sesso femminile. Lavoriamo tutti i giorni insieme nel raggiungimento degli obiettivi e cerchiamo di farlo al meglio per svolgere bene il nostro lavoro. Ha una passione mi è sempre interessato il corpo e le sue finzioni di polizia economico finanziaria quindi è un sogno che ho realizzato. L'assessore Bizzo ha ribadito come la presenza delle donne nei posti strategici delle forze armate e forze dell'ordine dovrebbe essere uno dei fiori all'occhiello di una società moderna e democratica.